Quanta fatica fanno i tanti che si iscrivono a bici in città? In 130 città si può andare in bicicletta, è un'iniziativa straordinaria che è già iniziata tra l'altro ci ha anche portato una maglia che voglio far vedere, questa è mia rosa Sì, in 130 città abbiamo iniziato il 18 di aprile a Firenze e concluderemo il 14 di giugno a Cotronei La grande partecipazione l'abbiamo registrata il 10 di maggio con circa 80 città in contemporanea, una partecipazione fino ad oggi di 90.000 cittadini Nel bici in città si fa comunque fatica ma si fa una fatica sostenibile perché si promuove l'uso della bicicletta e si promuove l'uso della bicicletta per rendere le città più vivibili Vincenzo, queste sono immagini particolari che ci teneva particolarmente a commentare con Ivano Maierella e con te soprattutto, le due ruote del futuro perché la tradizione e l'innovazione perché vediamo delle bici particolari anche per i giovani Ecco, quella maglia che abbiamo voluto regalarti come vedi ha il colore rosa quindi la nostra 29esima edizione del bici in città, quella di quest'anno ha voluto tracciare un filo rosa, diciamo, in questo caso tra la tradizione del bici in città e l'innovazione di quelle che sono le evoluzioni del BMX, del trial, del mountain bike all'interno di un'iniziativa che è l'iniziativa del Jumbo che si tiene presso Bologna Fiere il 30 e il 31 di questo mese e lo abbiamo organizzato appunto insieme a loro nello spirito del try and enjoy, quindi prova e divertiti ci sono i nostri istruttori, i nostri dirigenti delle nostre appunto leghe in questo caso soprattutto della lega ciclismo che aiutano a esibirsi e a vivere la bicicletta ecco con le sue evoluzioni e continuiamo appunto a promuovere anche lì in una logica di un urban park diciamo costruito, un park urbano dove c'è l'espressione del freestyle degli sport di strada, degli sport urbani per promuovere anche lì l'uso della bicicletta e occuparsi degli spazi e soprattutto è bello che i ragazzi possano provare così possono scegliere qual è la tipologia che gli piace di più qual è il tipo di mezzo che gli piace di più sì, nell'edizione dell'anno scorso abbiamo anche nel nostro book un bimbetto di due anni e mezzo che abbiamo messo sullo skate con la mamma che lo accompagna e che lo spinge quindi diciamo siamo aperti appunto alle prove e al divertimento di tutte le età e credo che questo sia diciamo l'approccio migliore di uno sport come quello nostro, cioè di uno sport per tutti insomma Vincenzo, uno sport per tutti ma anche un'alimentazione per tutti ci potrebbe stare uno spazio anche per la nutrizione perché è importante, magari questi ragazzi a volte si critica si dice tanto che è cambiata l'alimentazione i problemi dell'alimentazione dei giovani perché magari assumono molte calorie non so il fast food, già mi guarda male perché ho dei cibi mi ha arrivato subito uno sguardo di quelli non tirar fuori cerca di condizionare no guarda io ti farei vedere i nostri piatti quando arriva lui spariscono sotto il tavolo perché abbiamo il terrore ormai lo evitiamo però potrebbe esserci un progetto anche legato all'alimentazione perché è importante no? basta pensare a quello che sta facendo Michelle Obama in America con la campagna proprio per la sensibilizzazione nei confronti di alcuni cibi no? noi è da anni che ci impegniamo appunto sulla promozione di corretti stili di vita abbiamo anche dei progetti uno su tutti il diamoci una mossa che lega nel rapporto appunto con le scuole diciamo un approccio culturale dell'alimentazione coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo i ragazzi e coinvolgendo appunto la scuola ma soprattutto quest'anno con il primo maggio iniziato l'Expo spingeremo noi ancora di più rispetto al tema dell'alimentazione perché crediamo soprattutto come dire che dobbiamo sconfiggere finalmente o abbassare se non altro la percentuale grossa del 41% di sedentari che registriamo come maglia nera d'Europa da bici in città, 130 città in bicicletta uscite, andate in bicicletta e godetevi le città in bicicletta perché sono straordinarie le città in bicicletta perché possiamo scoprirle, possiamo scoprire degli angoli diciamo spesso con il Giro d'Italia con le cartoline straordinarie che il Giro d'Italia spedisce dal nostro territorio anche una città può essere riscoperta grazie alla bicicletta e soprattutto rendiamo le città più biciclettabili se me lo consentite nel senso che io vivo in una città come Roma sinceramente uscire in bicicletta a Roma è tutt'altro che un'esperienza facile anche adesso se c'è il progetto del Grav però insomma rendiamo le strade più semplici il Vigorelli è un tempio e chi pensa soltanto di buttarlo giù forse non si rende conto di quello che fa è stato bello sapere che ci sono delle gare per i bambini ecco vede c'è questa cosa dei bambini al Vigorelli insomma magari troviamo un gemellaggio chiediamo anche al Presidente della UISP se ci dà una mano organizziamo qualcosa al Vigorelli un evento che possa in qualche modo Presidente Manco coinvolgere sia il Museo del Ghisallo che il Vigorelli ci dai una mano Presidente? molto volentieri perché l'idea che tu lanciavi prima come dire del cicloturismo comunque di provare a tracciare anche una strada sportiva per la valorizzazione dei beni culturali dei nostri luoghi appunto della cultura insomma poi noi in Lombardia e soprattutto a Milano abbiamo un comitato molto ben strutturato quindi sicuramente si può aprire diciamo questa collaborazione per poter promuovere sempre di più certo la valorizzazione culturale dello sport che in questo paese è abbastanza carente quindi Presidente diamo una mano se possiamo dare una mano anche noi lo faremo volentieri grazie a tutti